Oggi in Edicola, Rassegna Stampa. L'apertura nazionale del resto del Carlino ci sta oggi, una giornata importante soprattutto per gli amanti dello sport e del calcio, dentro o fuori. L'allievo e il maestro in un passaggio di consegne decisivo per rimanere ad Euro 2024. Questa sera alle 21 Italia-Croazia, una foto significativa con Nicolo Barrella e Luca Modric, vedremo insomma quale sarà il destino della nostra Italia. Ma questo solo per avere uno sguardo anche di carattere nazionale, perché andiamo adesso sulla prima pagina romagnola del resto del Carlino. Come sappiamo il lunedì le notizie di prima pagina arrivano da tutti i territori della Romagna. E allora leggiamo, prima andiamo sulle pagine riminesi. Far West al bagno 44, due ragazzi accoltellati da rapinatori stranieri, entrambi neomaggiorenni, non sono in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio in mezzo alla folla dei turisti. E poi, sempre dal riminese, altre due notizie. Ricattato per 30 anni da amante e figlia. Paga così tua moglie non saprà quello che dicevano le due donne. A questo punto, insomma, arrivano anche per loro dei guai giudiziari. Si torna a parlare dell'ex sequestura. C'è l'accordo, era già stato anticipato sabato da parte del sindaco di Rimini, Jamil Saregolvad, che aveva dato anche alcune notizie tecniche sul nuovo progetto. Bene, ieri è intervenuta ASI, quindi la società che ha acquisito all'asta l'immobile, e non solo, ma anche tutto lo spazio nell'area di via Ugo Bassi. E vengono dati ulteriori dettagli. Uno riguarda proprio l'abbattimento, a questo punto direi abbastanza certo, e la società che dice che le macerie saranno utilizzate per le opere. Tra l'altro saranno frantumate in loco, quindi non ci sarà neanche il doverle trasportare in una zona dove vengono recuperati i materiali inerti. Queste sono alcune novità che arrivano rispetto al progetto della questura. Per tanto tempo, insomma, rimasto con un tire molla anche molto impegnativo a livello di dialogo e confronto, che sembrava non ci fosse, e che invece sta arrivando a una sua importante conclusione. Vediamo anche le altre notizie che arrivano dal territorio romagnolo. Andiamo nel Cesenate, ma rimaniamo molto vicino perché parliamo del ballottaggio che è in corso a Savignano tra della Pasqua e Sarti. Oggi il verdetto perché si vota anche quest'oggi. Le urne si sono aperte alle 7, si procede con la possibilità di votare fino alle 15 e poi subito ci sarà lo scrutinio e probabilmente, insomma, nel giro di pochissimo tempo si saprà chi sarà il nuovo sindaco di Savignano sul Rubicone. E poi a Bagno di Romagna, cade sul sentiero e si rompe il femore, scattano i soccorsi. Andiamo anche nel Ravennate. Una notizia, insomma, e soprattutto un evento che nel Ravennate piace molto perché si parla del palio del Niballo di Faenza, vince il Rione Verde, la sfida tra cavalieri decisa in serata dagli spareggi, giornata no di Innocenzi del Borgo, lo stadio neri sold out. E poi scivola nel canalone, escursionista salvato in Appennino e stato recuperato in elicottero. E poi una curiosa vicenda, una polemica che in realtà con l'arrivo dell'estate in quella zona ritorna spesso a farsi sentire perché siamo a Lido di Dante, la spiaggia è troppo piccola, la protesta dei naturisti. Nel Forlivese andiamo solo a leggere la notizia che riguarda la politica perché sappiamo la riconferma del sindaco Zattini, la Lega vuole il centro storico a Petetta verso l'urbanistica. Quindi insomma ancora un po' di tasselli per decidere quale sarà la nuova giunta. Ma ora passiamo alle pagine interne e ci concentriamo proprio sulle notizie riminesi. Far West sulla spiaggia, coltellati due giovanissimi. Leggiamo proprio dal titolo, una coppia di egiziani ha cercato di rapinare un gruppo di neomaggiorenni al bagno 44 di Marina Centro, uno dei malviventi ha poi estratto la lama e colpito al polso e all'addome i ragazzini è stato arrestato. Uno ferito al polso, l'altro all'addome. Fortunatamente tutti e due colpiti di striscio. E' andata bene a due neomaggiorenni che ieri sera intorno alle 19.20 si trovavano al bagno 44 con altri quattro coetanei. Quando a seguito di un tentativo di rapina ha finito male, i ragazzini si sono scontrati con due egiziani. Tutto sarebbe nato mentre il lungomare e la spiaggia davanti al 44 brulicavano di persone all'ora dell'aperitivo. Quindi insomma non è anche fosse nottefondo, una situazione che poteva essere anche potenzialmente pericolosa. Ad un certo punto i due nordafricani di qualche anno più grande dei ragazzini avrebbero avvicinato la comitiva, pare proveniente da Cesena, minacciandoli per farsi consegnare da loro cellulari e catenine. Insomma una situazione molto complicata, importante anche l'intervento da parte della vigilanza del bagno che è intervenuta per scongiurare il peggio. E' stata chiamata anche la polizia, polizia che ha immobilizzato e arrestato uno dei due egiziani che in questi giorni hanno riferito alcuni testimoni che erano già stati notati in zona per il loro atteggiamento su di giri, mentre il complice, appunto quello che purtroppo non è stato individuato, è riuscito a fuggire e sono stati portati i due ragazzini in ospedale anche se fortunatamente le loro condizioni non sono apparse gravi. E chiaramente c'è preoccupazione, l'estate appena è iniziata, questi episodi tra l'altro al calar della sera, in un momento dove ancora ci sono tante persone in giro, creano non poche preoccupazioni. E poi ancora la cronaca, in questo caso ci porta in carcere, o meglio ci porta a parlare di una fuga dal carcere. E' durata poco, appena un paio di giorni, la permanenza di un avvocato del Foro di Rimini fuori dal carcere dei Casetti, da dove era uscito giovedì a seguito della richiesta di scarcerazione accolta e presentata dal suo legale. Un'attenuazione della misura restrittiva, mutata inizialmente in un divetto di avvicinamento con braccialetto elettronico nei confronti dell'ex compagna. L'avvocato, di 46 anni, infatti era stato già arrestato e portato in carcere a febbraio. Una situazione quindi ad alta tensione. Quando è uscito l'avvocato, avendo ottenuto gli arresti domiciliari, ha eletto a domicilio l'Hotel de Ben di Riccione, però lì praticamente, quando sono andati a cercarlo, non si è fatto trovare. L'avvocato si era letteralmente volatilizzato e anche il suo legale non aveva sue notizie. A tradire però il locale, su dove fosse finito, sarebbero stati alcuni post sul suo Facebook, dove egli stesso manifestava l'intenzione di voler andare a prendere la propria figlia, avuta da una precedente relazione. A quel punto, insomma, per i carabinieri è stato abbastanza semplice andare a trovarlo proprio in strada. Diciamo che in questo caso l'utilizzo congruo dei social nel suo specifico caso non è stato molto fortunato, visto che voleva far perdere le proprietà, ma molto utile anche alle forze dell'ordine. Quindi a questo punto lasciamo le pagine, questa pagina sempre dedicata alla cronaca, ma andiamo ancora una volta a parlare di cronaca giudiziaria, perché c'è questo ingegnere ricattato con l'amante che chiedeva soldi per non rivelare la loro relazione. Per oltre 30 anni l'uomo avrebbe versato denaro alla donna e alla figlia illegittima per mantenere il segreto. Ora le donne sono a giudizio per estorsione. Ma leggiamo nel dettaglio anche questo articolo. Una storia d'amore clandestina lunga più di 30 anni e una figlia nata da questa unione extraconiugale tra un oggi 83enne, imprenditore del nord Italia e la sua amante di 20 anni più giovane. In questo scosceso terreno di amori rischiosi, scrive il Carlino, che sarebbe maturato una lunga estorsione, per cui nel 2020 l'ingegnere, presunta vittima del ricatto, avrebbe denunciato l'ex amante e la figlia avuta con lei una 25enne che ora vive in Australia. Quindi insomma una situazione abbastanza complicata perché sembra che dal 1998 al 2020 le due donne siano riuscite a prendere a quest'uomo diversi soldi. Il tutto dicendo appunto all'uomo che se le avesse pagate non avrebbero rivelato alla moglie quel legame clandestino che aveva portato anche alla nascita di una figlia. Sa di fatto che ad un certo punto l'uomo non è più voluto sottostare a questa sorta di ricatto e quindi sono state ascoltate amante e figlia in tribunale a Rime nel corso del processo cominciato tempo fa. La moglie dell'ingegnere sarebbe stata invece da sempre al corrento delle scappatelle del marito, nonché della seconda famiglia con la figlia mai riconosciuta come sua. E insomma una situazione abbastanza impegnativa perché i soldi che sono stati dati dall'uomo alla donna in particolare ma poi anche alla figlia sono insomma tanti e a questo punto bisognerà capire come andrà a finire questa vicenda giudiziaria. Ma ora parliamo anche di eventi che accadono sulle strade, strade pericolose, scrive il Carlino, tre incidenti in poche ore un'auto finisce nella scarpata. È stata una giornata di incidenti, quella di ieri a partire dalle 4.30 di notte quando una Fiat Panda è andata a sbattere a Ponte Verucchio ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per chiudere la bombola del metano a cui era alimentata la vettura. Sempre ieri però in mattinata alle 7.30 siamo in una zona che è quella di Cantoniera a Pennabilli quando il conducente ha sbandato e la sua auto è volata giù nel dirupo al di sotto della strada. E poi c'è un ultimo incidente, questa volta avvenuto alle 10 in via Casalecchio a Rimini. In questo caso un'auto guidata da una persona di 64 anni ha sbandato finendo nel fosse e poi contro la recensione di una casa. Sul posto è intervenuta la polizia locale e i soccorsi del 118 proprio per cercare di dare una mano al conducente che è rimasto ferito. E poi andiamo a vedere qual è ancora la situazione che ci racconta il Carlino invece sulla questione ASI. ASI è una sigla ormai, un acronimo che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi da che questa società ha acquisito all'asta tutta l'area di via Ugo Bassi dove sorge l'immobile che sarebbe dovuto diventare questura. Bene, per lungo tempo c'è stato un confronto che non iniziava forse anche uno scontro per alcuni aspetti tra la società stessa che aveva ideato un progetto di realizzazione in quell'area fatta di commerciale, di residenziale ma anche di altre realtà che dovevano anche completare un po' il quadro di quell'ampia zona. Sta di fatto che per lungo tempo l'amministrazione comunale di Rimini ha detto che è un progetto che non è per il bene pubblico quindi su quell'area noi andremo a definire che cosa accadrà solo con il piano urbanistico generale ma qui in realtà non si è ancora messo mano in modo significativo e dopo tante botte e risposte avvenute in questi mesi finalmente l'accordo e diciamo non tanto un ipotetico ma sembra una certezza è alle porte tant'è che mercoledì se ne parlerà in commissione consigliare sabato il sindaco ne ha illustrato alcuni elementi in particolare quelli legati da una parte alla proposta di Asi e quella che invece era la proposta dell'amministrazione comunale con una decisa diminuzione anche delle cubature sia del commerciale che era un po' il vulnus di questo progetto a detta dell'amministrazione comunale sia del residenziale ieri con una nota è intervenuta la stessa Asi e allora leggiamo sulle pagine del Carlino accordo sull'ex sequestura Asi quanto sarà abbattuto verrà recuperato ricostruendo soddisfazione della proprietà dell'area di Diogo Bassi sul punto di incontro col comune per eliminare lo stabile e riqualificare la zona cosa dicono dalla proprietà? riattiveremo la vitalità del quartiere grazie a un parco e a un boulevard il raggiungimento dell'accordo anticipato dal sindaco prossimo alla discussione in commissione raccoglie il nostro gradimento queste sono le parole di Piero Aicardi che è amministratore unico di Ariminum Sviluppo Immobiliare che guardando a mercoledì all'arrivo della pratica per l'eliminazione dello stabile e successiva riqualificazione dell'area dice riteniamo doveroso dare merito al sindaco per avere difeso con tenacia una visione globale di rigenerazione e salvaguardia dell'interesse pubblico di tutto il quadrante che coinvolge anche la caserma Giulio Cesare e lo stadio ad entrare più nel dettaglio poi è Marco D'Adalto responsabile del progetto Rimini Life che spiega che viste anche alcune regole che sono imposte dall'Europa o comunque direttive importanti che viene a seguire quando si va a nuove costruzioni parte degli inerti che proprio arriveranno dalla demolizione della grande opera circa 50.000 tonnellate saranno attraverso un processo di frantumazione certificata frantumate sul posto e poi questo materiale sarà riutilizzato per l'esecuzione delle opere pubbliche del progetto quindi una pars d'estruens per alimentare quella construens caratterizzata nelle carte del progetto da un enorme parco e da un boulevard che spiega D'Adalto accoglierà nelle parti periferiche i nuovi edifici fungendo da tappeto che metterà in relazione lo stadio con la via Ugo Bassi per cui insomma a breve si dovrebbero sapere anche ulteriori dettagli a proposito di stabili di spalla il Carlino riporta anche il futuro si spera dell'ex hotel Venezia siamo a Riccione si terrà infatti il prossimo 10 luglio un'asta giudiziaria per aggiudicare diverse porzioni dell'ex hotel Venezia di Riccione la vendita partirà da un prezzo base di circa 2 milioni di euro e un'offerta minima di circa 1 milione e mezzo le offerte dovranno essere presentate entro le 13 del 9 luglio si tratta della struttura conosciuta anche come il condominio Residenza Venezia il quale include in sé diverse unità immobiliari garage, cantine, negozi e botteghe insomma vedremo se si troverà l'accordo su questa struttura bene qui adesso andiamo alle pagine sportive per cui io direi dalle pagine del Carlino ci spostiamo a quelle del Corriere e andiamo insieme a leggerle ritorniamo proprio sulle pagine principali del quotidiano di oggi come sapete anche il Corriere fa la scelta di un'apertura sempre di carattere romagnolo e quindi andiamo a vedere insieme proprio la prima pagina di questo Corriere Romagna del lunedì l'apertura ci porta a Castrocaro fermato per un controllo in veste un carabiniere ricovero e prognosi di 30 giorni per il comandante dell'arma questa è la notizia centrale sulla prima pagina del Corriere poi per quello che riguarda Rimini troviamo in taglio alto aggressioni in spiaggia diciottenni accoltellati i ragazzi colpiti da fendenti da due coetanei uno è fuggito l'altro è stato arrestato poi a centro pagina troviamo questa notizia emergenza cesenatico fuga di gas dal Maitano Dotto e insomma grande preoccupazione in taglio basso troviamo invece una nuova notizia che riguarda Rimini scontro in famiglia questa famiglia fra virgolette accusa figli ed ex amanti di estorsione un anziano ingegnere ha trascinato le donne a processo loro però negano tutto di spalla due notizie di sport da una parte si parla di moto quindi di campionato di velocità Pirro vittoria in superbike numero 70 e poi anche delle novità che riguardano Riviera Banca Basket Rimini la società del basket riminese c'è Bolognesi che arriva come direttore tecnico e poi invece Pascoli che rinnova con Forlì questa è la prima pagina del Corriere in primo piano prima di addentrarci sulle pagine riminesi leggiamo un po' anche di politica perché chiaramente ieri erano 101 i comuni in Italia che andavano al ballottaggio ieri e oggi perché ricordiamo si vota fino alle 15 9 nella regione Emilia Romagna dopo i ballottaggi probabilmente partirà in qualche modo forse un po' in sordina visto che siamo in estate la campagna elettorale per le prossime regionali allora leggiamo proprio dal Corriere dopo il ballottaggio si apre la corsa per la guida della regione la partita per il dopo Bonaccini scrive il Corriere si gioca fra Piacenza con l'assessore attuale Colla e Ravenna invece con il sindaco De Pascale Malepore quindi andiamo a Bologna vorrebbe un bolognese resta in piedi l'ipotesi di Priolo che è l'attuale vicepresidente che ha gestito anche per tanti anni insomma e soprattutto negli anni più drammatici in particolare il 2023 tutta la partita della protezione civile queste sono alcune linee che indicano insomma un po' il movimento all'interno del centro-sinistra tant'è che appunto già ci sono dei contatti chiaramente il presidente Bonaccini che è approdato in Europa la domanda ci sta perché probabilmente potrebbero esserci anche elezioni anticipate anche quasi sicuramente con Bonaccini a Bruxelles chi lo sostituirà e ormai cosa nota che la sfida si gioca sui due lembi estremi della regione come si diceva appunto da una parte Piacenza dall'altra Ravenna insomma di Rimini non se ne parla ma insomma effettivamente l'ipotesi di un presidente di regione riminese almeno fino ad ora non è stata appaventata da nessuna parte però in realtà ci sono assolutamente tra l'altro insomma candidati più che presidenti perché poi tutto si giocherà alle urne potrebbero comunque anche alcuni nomi del nostro territorio competere ben competere anche per essere il candidato del centro-sinistra dicevamo del ballottaggio Savignano alle urne oggi fino alle 15 per conoscere il nuovo sindaco alle 19 di ieri l'affluenza alle urne nelle 17 sezioni i savignanesi era stata del 33,2% l'8 e il 9 giugno scorso nessuno dei tre candidati in lizza aveva raggiunto la maggioranza del 50% più uno dei voti e così i due più votati che sono Nicola della Pasqua dell'area centro-sinistra con 3.855 voti pari al 48,31% e Lorenzo Sarti con 2.726 voti pari al 34,16 si scontrano nel duello finale su chi sarà il nuovo sindaco fuori dalla corsa di ballottaggio il terzo candidato Luca Pierini per cui insomma bisognerà vedere quale sarà l'esito che arriverà dalle urne da questo ballottaggio ma ora andiamo alle pagine riminesi leggiamo alcune notizie di cronaca in particolare questa di cronaca giudiziaria che un po' abbiamo già approfondito sulle pagine del resto del Carlino ingegnere denuncia la figlia e l'ex amante o i soldi o dicevano tutto a mia moglie questa è la sua versione dei fatti le due donne sono accusate di estorsione ma negano ogni cosa la sua famiglia dicono le due ha sempre saputo certo è che adesso devono rispondere di questa accusa di estorsione figlia viene detta e definita sulle pagine del Corriere figlia illegittima in realtà comunque a tutti gli effetti la figlia di questo uomo che oggi ha circa 25 anni ricordiamo che il papà ne ha più o meno 83 un'ottantina comunque è una storia alla beautiful leggiamo ancora sulle pagine del Corriere quella che si snoda tra Milano e Rimini dove avvenne l'incontro tra lui un celebre ingegnere di fama internazionale la donna che circa 30 anni fa divenne prima la sua amante e poi la madre della figlia naturale libero professionista ha condotto a lungo questa doppia vita e poi nel 2020 stanco dice lui di dover pagare somme importanti perché la donna in particolare non dicesse nulla di questa sua seconda vita ha deciso di rivolgersi ad un legale e quindi negli atti che sono importanti insomma di questa lunga vicenda si ripercorre proprio questo periodo tra l'88 e il 2020 quando si interrompe la catena dei versamenti economici lo dicevamo le due donne dicono che assolutamente non è questa la reale versione dei fatti che anche la moglie diciamo originale possiamo dirle così la moglie di quest'uomo sapeva tutto e quindi inevitabilmente anche le accuse non sono fondate diciamo che pare ci sia stata anche una telefonata questo riporta il corriere pronto signor ho appena partorito la figlia di suo marito è la chiamata dell'amante che è stata messa agli atti quindi insomma una storia un po' particolare abbiamo letto anche di questa invece sulle pagine del Carlino maltrattamenti contro la moglie scarcerato avvocato torna in cella infatti ha violato l'obbligo di firma non rispondeva alle chiamate dei carabinieri ma aveva scritto su facebook di rivolere la figlia e quindi sulla strada che lo portava proprio a questa bambina a questa ragazzina lo hanno trovato i carabinieri riportato in carcere c'è un caso che viene raccontato questa mattina sulle pagine del corriere prima bollette stellari poi senza acqua evocato intrappolato dalla burocrazia nello stabile in cui ha aperto lo studio si trovava una lavanderia conteggiati consumi medi della precedente attività quindi questo avvocato si è trovato effettivamente con degli importi di bolletta quanto mai significativi da una decina di mesi è finito in un traita carne burocratico che al momento pare inestinguibile da una parte era dall'altra l'avvocato Marco Angelini ed il suo nuovo studio che si trova in vecchia Emilia nella zona di San Vito quando ho rilevato quei vani che ora vengono utilizzati per ricevere la clientela ma prevalentemente anche per archivio spiega l'avvocato ho acceso con era un nuovo contratto per l'erogazione di acqua e luce sta rifatto che la prima bolletta che gli è arrivata era di 400 euro lui dice una cifra consistente alla quale però non ho fatto caso più di tanto perché il mio pensiero era che vi fossero contenute all'interno delle spese di avviamento legate al contratto e ai contatori la ritenevo insomma alta ma abbastanza normale però effettivamente queste cifre di bollette così alte sono continuate e quindi lui ha cominciato a pensare che ci potesse essere una rottura anche nelle tubature una perdita a valle del contatore così ho fatto controllare tutto dice ma in realtà il contatore non aveva questi problemi iniziano qui le chiamate al call center di era insomma un rimpallo importante arrivano altre bollette da grandi cifre e poi c'è l'arcano l'arcano che viene svelato prima dello studio archivio dell'avvocato Angelini come ancora si può notare andando con google maps c'era una lavanderia in buona sostanza dice l'avvocato era mi addebitava quello che era il consumo teorico non di un nuovo contratto ma del precedente contratto che era una lavanderia e quindi evidentemente a livello anche di consumo di acqua era molto era molto alto ora però pare che gli abbiano staccato l'utenza perché insomma alla fine insomma la situazione l'acqua è sparita e quindi probabilmente dovrà presto trovare una soluzione anche una mediazione con Econera perché effettivamente se i consumi sono presunti come in alcune bollette può capitare anche nelle utenze domestiche poi chiaramente una volta che si fanno a leggere le reali cifre del contatore queste cifre dovrebbero in qualche modo essere restituite all'utente vedremo come andrà a finire ci porta la prossima notizia sulle strade ragazzo si schianta con l'auto contro un cancello e fugge sono state ore agitate quelle tra sabato e domenica mattina quando nel territorio provinciale ci sono stati diversi incidenti appunto si parla di questo ragazzo che è andato a sbattere contro contro un cancello e poi c'è un 64enne che è finito nel giardino di un'abitazione mentre a Pennabilli un 58enne è sceso prima di cadere nella scarpata è riuscito insomma ad uscire dalla sua automobile e ancora la cronaca spaccia sul lungomare di Cattolica 27enne catturato dai carabinieri un albanese disoccupato che soggiornava in un hotel della zona insomma diverse persone hanno notato più e più cessioni di sostanza risultata poi essere cocaina e grazie anche a queste segnalazioni fortunatamente l'uomo è stato fermato edilizia i controlli e il blocco leggiamo sempre sulle pagine del carlino niente taglio del 10% ai volumi iniziali il comune dice stop al palazzo di Sette Piani il cantiere finito nel mirino per delle crepe a un edificio confinante è andato avanti ma ora è stato annullato il permesso di costruire una notizia questa che arriva da Bellare Giammarina dove è stato il comune ad impedire questo ulteriore avanzamento dei lavori una questione abbastanza intricata poi sempre sulle pagine del Corriere si torna a parlare anche dell'ex sequestura accordo sempre più vicino racconta il quotidiano e si fa strada anche il market S lunga che sembra essere insomma la sigla proprio del supermercato che dovrebbe essere il supermercato proprio di quella zona l'amministrazione di Asia Icardi dice un compromesso necessario per dare un alto livello di qualità urbana a quella zona quindi un po' quello che abbiamo letto anche sulle pagine del Carlino c'è una bella intervista sulle pagine del Corriere a Holly Hess che è una disc jockey io DJ giro il mondo da vent'anni dalla Darsena di Rimini fino a Mumbai la trontottenna la console è anche influencer e titolare di un'agenzia di eventi in India la Romagna dice nel mio DNA bisogna tenere duro e lavorare sodo non ci sono scorciatoie e quindi insomma si racconta in questa lunga intervista le pagine del Corriere e poi una vicenda che è stata seguita anche dai quotidiani un cane sequestrato ad un clochard le guardie zoofile che hanno agito spiegano anche le motivazioni perché c'era stata anche la protesta di alcuni passanti è stata un'inutile separazione la replica delle guardie zoofile è questa il cane non aveva né un microchip né un libretto Alex non è nuova ai controlli è il secondo anno che chiede l'elemosina con cani diversi una pratica diffusa spiegano per impietosire i passanti e che comporta l'abbandono degli animali a fine estate quindi insomma anche qui una situazione a due facce sulle pagine del Corriere poi viene riportato il Far West in serata sull'Arenile Riminese feroce aggressione tentata rapina due diciottenni accoltellati in spiaggia con i dettagli che vi abbiamo già raccontato sulle pagine del resto del Carlino e così passiamo a questa notizia che leggiamo a San Marino intervista grazie a Zafferani di Demos alleanze non ci sarà una linea politica chiara serve responsabilità si vada al ballottaggio il rischio dice sarebbe quello di far rimanere il paese fermo e senza prospettiva di sviluppo economico e sociale se il governo parte la DC con la sua forza attrattiva tenterà di distruggere Libera PSD come fatto con rete questa è la notizia che arriva da San Marino a questo punto ci fermiamo un istante poi andiamo a leggere velocemente le pagine sportive tra pochissimo Oggi in Edicola Rassegna Stampa Oggi in Edicola Rassegna Stampa velocemente in chiusura un paio di notizie di sport chiaramente oggi lo sport è quello nazionale in particolare dell'Italia che si gioca questa sera la possibilità di proseguire gli europei ma andiamo subito sulle pagine locali Serie B Cesena Mignani che ho i 15 minuti con a vista tricolore la brevissima presenza nella Samp 1991 gli valse lo scudetto la storia dei tecnici bianconeri campioni d'Italia da giocatori raccontato in questo articolo sulle pagine del resto del Carlino e poi andiamo a parlare anche del Rimini ah scusate questo è il Corriere Romagna per il Rimini la missione dell'estate è tenersi stretti i suoi gioielli il Benevento vuole l'accoppiata morra la mesta sud e Tirol pronto ad affondare per Pietrangeli quindi la società cercherà di respingere ogni assalto ai suoi big ma è pronta a correre i ripari come successe con Santini e poi il motociclismo sempre sulle pagine del Corriere la riscossa di Pirro nel campionato di Agliano di velocità settantesima vittoria tricolore tanti secondi posti per i Romagnoli Vitali in SBK Plazzi in Super Sport 300 Bartolini in Moto3 Pritelli in Premoto3 e poi andiamo a vedere anche del baseball il presidente Trump riporta San Marino da solo al comando la doppietta contro Grossetto arriva in rimonta con 7 punti e poi si parla anche della New Rimini stiamo parlando sempre di baseball si ripete la New Rimini come all'andata fa il bis contro Padova la squadra di Castro basta un punto al quarto inning e poi difeso sul monto dalla coppia Paredes Sosa lo sport ci porta anche sulle pagine del resto del cardino con questa notizia la rinascita volta pagina Bolognesi nuovo direttore tecnico accordo con il dirigente ex Napoli che entra nello staff bianco rosso e dice orgoglioso di essere a Rimini la società ha un progetto importante c'è un grande rapporto di stima che mi lega ad Alessandro Turci il suo arrivo no scusate che dice Turci rispetto proprio a Bolognesi il suo arrivo arricchisce il club e con questa notizia noi andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa ora l'informazione a carattere nazionale noi torniamo subito dopo con il nostro primo TG grazie e buona giornata Oggi in Edicola Rassegna stampa